Sarà inaugurata domenica la chiesa di Grazzano Visconti, ristrutturata dalla diocesi grazie al contributo dell'8x1000 della CEI. La celebrazione delle 10.30 sarà presieduta dal vescovo Monsignor Gianni Ambrosio. L'altro grande intervento messo in cantiere due anni fa e che sta per essere terminato è quello al tetto della chiesa di Borgonovo, dove sono stati investiti 400.000 euro per la messa in sicurezza. Un intervento davvero molto importante, anche piuttosto oneroso dal punto di vista economico, ma che oggi mette in sicurezza questa chiesa, che è una chiesa di grandi dimensioni e il manto di copertura è un manto che potrà davvero garantire la tenuta negli anni e nel tempo. Tra gli interventi principali di quest'anno la diocesi ha pianificato la ristrutturazione della canonica del Duomo. I lavori partiranno in estate. Vi sarà una completa ristrutturazione dell'immobile che al piano terra sarà organizzata, come già è parzialmente ora, per i servizi pastorali e funzionerà proprio in stretto rapporto con quello che è il salone parocchiale, anche esso sarà oggetto di restauri. I piani superiori, il secondo e il sudotetto, saranno invece adibiti a residenze dei paroci. Gli altri interventi che partiranno in estate riguarderanno le chiese di Bobbiano, Vigolo, Gossolengo, Santa Maria in Cortina, le canoniche di Stra e di San Giovanni in Canale, il campanile di Groppo Ducale. Per il 2020 altri lavori per un milione di euro verranno messi in cantiere. Il principale riguarderà le coperture della chiesa di San Francesco in pieno centro a Piacenza.